Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Presidente Roberto Renzi, un buon 3-1 della Samb, una squadra in crescita. Sì, ormai siamo nella parte finale della preparazione, domenica già abbiamo la prima partita ufficiale di Coppa Italia contro il Tolentino, dunque i ragazzi ho visti belli pronti, belli carichi. Bene, dai. Lunedì parte la campagna di abbonamenti, si attende una buona risposta da parte della Serie A che viene sempre con grande passione anche in questa amichevole qui al Samba Village. Io sulla passione dei tifosi della Samba non c'è mai avuto nessun dubbio, so quello che provano per questa squadra e noi cerchiamo sempre di dargli il massimo e sono sicuro che ci accompagneranno per tutto il campionato. Manca qualcosina a questa Samba, siamo a posto, si parla di un centrocampista da tesserare. Sì, sì, stiamo cercando di mettere questa pedina, però diciamo che al 95-96% siamo pronti, dai. Portiere over, manca il transfert. Sì, non è, ma non è un problema. Lui l'ultimo anno l'ha fatto in Bulgaria, dobbiamo fare il passaggio tramite UEFA, però penso che entro martedì, mercoledì, arrivi tutto. Non è un problema. Lui ha già firmato, sta con noi, grande portiere d'esperienza. Lui ha sempre giocato in Serie A e in Serie B e si è messo a disposizione della Samba del Tese. Obiettivo stagionale con un girone molto impegnativo. Sì, è un girone come tutti i gironi. Sono 18 squadre, tutti quanti vogliono salire nella categoria superiore e noi cercheremo di stare lì davanti a tutti quanti.